Simone Budi davanti al tuo pubblico un esordio con i fiori è stata una bella soddisfazione anche perché la partita non si era messa benissimo abbiamo fatto due set straordinari abbiamo fatto due set bellissimi poi il terzo è stato un calo che rischiavamo un po' di pagarlo nel corso della partita quindi siamo stati bravi a recuperare bravo Ivano a toglierci dai guai con quelle meravigliose quattro battute sicuramente da un'iniezione di fiducia dopo le due sconfitte contro il Brasile sapevamo di essere forti però comunque ci avevano lasciato la mare in bocca e qualche dubbio dopo oggi penso che abbiamo ritrovato un po' di consapevolezza speriamo che ci aiuti anche contro l'Australia e poi per andare avanti